Sabato non si è giocato e chi può dirci se è stato meglio o se è stato peggio? Anche perché con un presumibile terreno asciutto avremmo assistito sicuramente ad una gara palpitante dal pronostico incerto tra due squadre in ripresa e che sostanzialmente hanno le stesse potenzialità tecniche e ipoteticamente anche gli stessi punti. Se la gara non fosse iniziata, per poi essere sospesa dopo appena sei minuti, si poteva recuperare anche il giorno dopo e quindi domenica scorsa. Il regolamento prevede il recupero adatta da destinarsi in virtù degli impegni delle due società che attualmente sono dedicate solo al campionato ma c'è da tenere in considerazione che nel giro di cinque giorni, da martedì a sabato scorso, Lascoli praticamente non ha giocato affatto e quindi, in ordine cronologico, va recuperato prima l'impegno infrasettimanale con il Vicenza, previsto per martedì 22 marzo e poi, a distanza, non certo ravvicinata, l'impegno dell'Ezio Scida, presumibilmente verso metà aprile. Una pausa forzata che non pregiudica il lavoro di Menichini, soprattutto in vista del prossimo impegno, lontano dalle mura amiche contro Piacenza, Di Caccia, leader indiscusso della classifica marcatori con 17 gol all'attivo. Piacenza in salute, che attualmente occupa una posizione tranquilla in classifica, a 38 punti, ad una distanza equa sia dai play-off che dai play-out. Il crotone forte del recupero interno con Lascoli potrebbe inserirsi più o meno allo stesso punto. Sta di fatto che l'impegno in terra piacentina arriva in un momento cruciale del torneo e un risultato positivo potrebbe definitivamente metterci nelle condizioni di giocare con più tranquillità gli impegni futuri. La squadra, dopo il ritorno di Menichini, sembra avere le carte in regola per giocare alla pari con tutte. Sindaco, un progetto importantissimo, partirà fra poco, che coinvolge il comune, dall'ediretto, coinvolge l'ufficio scolastico provinciale, coinvolge il CONI e l'associazione diretta da Oscar Facente. Insomma, si farà in modo di far crescere ancora meglio i nostri giovani? Certo, è un progetto dedicato alle scuole elementari, quindi è importante perché è la seconda volta che lo facciamo. Si chiama Rendi forte il tuo bambino perché l'attività sportiva, specialmente oggi che ci sono bambini anche che sono un po' obesi, perché i cibi che vengono assimilati sono cibi che fanno ingrassare. Sicuramente l'attività sportiva è un'attività che fa bene alla salute, ma è anche un modo per educare i bambini alle regole e poi lo sport è una cosa che è sempre piaciuta, un settore che suscita una grande passione nei bambini, nei giovani. In sintesi, in che cosa consiste questo programma ambizioso che noi vorremmo tanto fosse preso d'esempio anche da tanti altri comuni della nostra provincia? Intanto molti comuni si stanno attivando a fare ciò. Comunque noi nel Comune di Curti l'abbiamo già realizzato per la prima volta il 1997 e lo stiamo riproponendo da due anni, negli ultimi tempi. Cioè è un'attività motore di base per promuovere e diffondere appunto questa motricità di base per l'acquisizione di quello che potrebbe essere il supporto alla specializzazione futura. Con un'attenzione particolare alle donne, dicevi, alle bambine, perdonami, dicevi in conferenza stampa. Stiamo cercando di promuovere lo sport al femminile e tentando di far capire ai genitori che le ragazze non possono fare solamente la danza. Lo sport moderno ci indica che le migliori campionesse a livello internazionale in Italia sono donne. Motivo per cui le donne possono fare tutte le discipline sportive e cercheremo appunto attraverso le azioni di gioco sport e di sport di realizzare tutto quello che serve perché questo convincimento avvenga. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie.